Buongiorno a tutti, sono qui con Massimo e sono qui alla statua di Pantani a Cesenatico. Un altro punto importante del tour verso Roma perché rappresenta per me l'ispirazione. L'ispirazione è quella scintilla che ti mette in moto poi la motivazione, ti fa venire il sogno di raggiungere obiettivi che pensi irraggiungibili, perché qualcun altro, in questo caso Pantani, li ha raggiunti prima di te e comincia a pensare che anche tu puoi metterti in gioco. Qui abbiamo Massimo che ho incontrato per caso questa mattina lungo la strada in Romea che è andato a trovare la sua mamma d'Argenta e lui è di Urbino ed estate va sempre in bicicletta a trovare la sua mamma, su e giù, il weekend, sono 120 km. Massimo per me rappresenta la motivazione perché ha una bicicletta che si è messa a posto lui che ha pagato 40 euro, va con le scarpe da ginnastica normali, con la maglietta normale, ha il cestino che si è fatto lui per portarsi i bagagli per andare a trovare la sua mamma. Perciò, come dico sempre, la motivazione, la volontà trova soluzioni e la pigrizia invece trova solamente scuse e Massimo Cazzo ne ha un esempio, un grandissimo esempio che quando si vuole si fa. Grande Massimo, grazie di aver fatto un po' di strada con me. Ciao a tutti, adesso direzione verso la Madonna di Loreto che raggiungeremo nei prossimi giorni perché un po' di pausa, un po' il culo fa un po' male. Io però mi fermo prima, ciao a tutti. Ciao.